Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore dell'audio che l'audio ha smesso di funzionare per Windows e ovviamente faremo vari metodi per risolvere questo errore in passato avevo realizzato altri tutorial non simili a questi perché i metodi erano veramente diversi da quelli che adesso ti farò vedere ovviamente andremo a fare tutto sui servizi di Windows quindi in questo caso recati così su servizi vai su servizi ed eccoci qua ora andiamo un attimo su audio di Windows eccolo qua se in questo caso il tuo dispositivo ha smesso di funzionare e sul servizio audio di Windows non è più in esecuzione quello che ti consiglio di fare è riavviare il tuo servizio se ci clicchi sopra puoi anche fare interrompi e poi fai avvia poi andiamo un attimo su generatore endpoint auto di Windows ed eccolo qua ovviamente se è spento tu ci clicchi sopra e fai riavvia se non puoi riavviarlo ci clicchi sopra e fai avvia qua sopra poi una volta fatto andiamo fino a giù fino a trovare il plug and play pure questo è manuale però se ci clicchi sopra lo metti su automatico e se non si è spento tu lo avvia e fai applica e facciamo ok una volta fatto scendi fino a giù fino a trovare la chiamata di procedura remota rpc ci clicchi sopra e anche qua in questo caso il mio stato di servizio è in esecuzione se a te non c'è tu dovresti direttamente riavviare questo servizio poi una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo un attimo su gestione dispositivi il trucco per risolvere il problema dell'audio se tu vai su andiamo a trovare l'audio ed eccolo qua vai sul tuo dispositivo audio ovviamente vado sul mio real tech audio e faccio disinstalla il dispositivo quindi una volta disinstallato il dispositivo tu riavvia il tuo sistema riavvia il tuo sistema e stai certo che poi si riabiliterà da solo ok si installerà da solo il dispositivo e avrai risolto con questo metodo poi se non dovessi andare vai direttamente su cmd esegui come amministratore questo prompt dei comandi e fai sì e vai a mettere questo comando esecuzione comando riuscita se non dovesse andare quest'altro comando usa questo esecuzione comando riuscita una volta fatto chiudiamo qua e andiamo su una volta fatto vai su esegui e comincia a scrivere size.cpl sysdm.cpl ci clicchi sopra vai su hardware impostazione installazione dispositivo metti no prodigio di dispositivo potrebbero funzionare come previsto e ovviamente se non dovesse andare vai su sì scelta consigliata salvo modifiche e facciamo ok una volta fatto vai direttamente su l'audio impostazioni audio scende fino a giù fino a trovare altre impostazioni di audio questi sono i nostri dispositivi audio e questo è quello che sto usando e ovviamente se c'è una x qua tu devi abilitare il dispositivo se in questo caso c'è una freccia in basso come questa tu devi abilitarlo e installare così il dispositivo vai su proprietà e vedi su prova se funziona l'audio e l'audio a me funziona alla fine del video ci saranno altri metodi che ho mostrato in passato quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere i problemi all'audio che l'audio ha smesso di funzionare in alto a destra ci sono vari video che ho fatto in passato se ti possono servire stanno lì i metodi sono diversi da quelli che ho mostrato oggi quindi ti consiglio di guardarli e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao 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 ciao